Grazie, è un grande piacere per me essere qui oggi e presiedere questa seduta inaugurale. Vorrei anch'io iniziare con alcune parole a livello personale, ma anche a livello dei colleghi di anglistica, di tutta l'anglistica italiana. Noi siamo grandemente debitori alla professoressa Sacerdote Mariani per il suo contributo allo sviluppo di questa disciplina, in quanto è una disciplina che è nata anche grazie al suo contributo. Negli anni in cui la professoressa Sacerdote Mariani ha elaborato le prime pubblicazioni teoriche e scientifiche, la tradizione era prevalentemente o filologica in Italia o letteraria. Non esisteva ancora una tradizione di studi di lingua e traduzione per quanto riguardava le lingue moderne ed era un campo, un tutto nuovo, che veniva prendendo un grande spazio e che acquisiva un'importanza particolare. Era però un settore tutto da formare, nel senso che era privo di guide. Noi oggi siamo fortunati, abbiamo avuto dei maestri a cui siamo debitori, siamo molto debitori per questo sviluppo della disciplina, per averci dato delle linee metodologiche, per averci dato degli insegnamenti. Loro le hanno costruite e Gigliola è tra i nostri maestri quella che più ha dato uno spessore metodologico a questa nostra disciplina. In modo particolare, dal punto di vista rigore metodologico, vorrei dire, questo è il primo insegnamento che abbiamo avuto dai suoi scritti e dalle sue parole nei convegni, particolarmente in ambito linguistico. Era un settore che si andava formando, aveva una sua tradizione prevalentemente in America, in altri settori, nell'ambito dell'anglistica straniera. Direi che però una prima immagine, un primo messaggio che ci è stato dato è stata questa apertura verso le altre discipline, cioè la lingua come possibilità di analizzare i testi e di scoprire così, e di far scoprire anche ai nostri colleghi la ricchezza di voci nei testi, la possibilità di esprimere tanti significati. Quindi ci siamo aperti tantissimo al discorso socio, politico, legale, economico e più in particolare poi un ambito culturale vasto, un mondo molto vasto che poi ovviamente andava anche toccando aree che erano anche pertinenti agli studi letterari, però trovando una nostra configurazione chiara. Avete sentito anche dalle testimonianze degli studenti quale importanza abbia dato sempre all'aspetto didattico. Questo è un altro aspetto molto importante per noi, ricerca in ambito linguistico e applicazione didattica molto rigorosa, molto corposa con analisi di testi. Lo spessore poi che ha dato al settore della traduzione, perché ovviamente ha avuto sempre questa curiosità, facilità a scoprire anche il passaggio tra codici diversi. Mi ha sempre affascinato la sua conoscenza delle varie lingue, la capacità di cogliere queste contaminazioni, e che poi emergevano anche in tutti quei suoi studi dedicati alla traduzione. Direi che per noi è stata quindi una pioniera, che ha costruito una disciplina e una maestra, in questo vorrei proprio ringraziarla. E direi che in questo gli anglisti devono molto a Gidiola, il sacerdote Mariani, e anche per questo gusto che ci ha dato per la parola, per il testo e per la lingua. Grazie ancora.